rinuncia al lancio, girano molte fruste dietro la macchina, si va in partenza allo stacco e veloce dal centro del culo Paramount, ok che si pone in testa mentre sopravanza il numero 3 di Princess of Brown, all'esterno si fa vedere Piperita Gar che a sua volta va a chiedere strada, lancio il redice 4, Piperita al comando su Paramount e poi Princess of Brown, la via del Largo che è presa da Penelo Pedete che si trascina il numero 8 di Pantera OM, si va così alla paletta dei 400 metri in 28,8, a Piperita Allegra ora Piperita Gar che va alla comando e ora lascia il passo a Paramount Ok che gli completa il suo itinerio e si trova ai 600 in 44,9, la via del Largo ora è preda di Pantera OM che ha sopravanzato Penelo Pedete e si pone come apri in fila del treno esterno di corsa, quando siamo agli 800 di corsa, in un minuto e uno scarci, Paramount alla comando, Piperita in seguire e poi ancora l'esterno Pantera, mentre non si vede un primuletto, adesso arriva il numero 12 Potenza N che fa il suo volo in terza così al chilometro in 1,15,8 Potenza che attacca a fondo, ora sopravanza il numero 8 di Pantera OM e si porta al lato di Paramount che prova a reagire ma non riesce al momento a tenere anche se accusa qualche problema di andatura e poi riprende in mano allora Alessandro Gossiodoro e nel frattempo passa Potenza OM che si ritrova in addirittura d'arrivo con un paio di margini nei confronti del resto del gruppo, Paramount che ora cerca di salvare almeno un secondo dagli attacchi delle avversarie davanti Potenza OM che sta perfezionando un gran bel percorso, Potenza OM che ora agli ultimi mesi accusa un po' l'asforzo ma cerca comunque di salvarsi Potenza OM che si salva comunque da Paramount ok.